Post-it, il rotocalco radiofonico di AKR e Mondo Radio Web, a cura di Piero Cirino. Bene, rieccoci dunque, riprendiamo la linea dallo studio centrale per il nostro spazio dedicato all'ospite. Stamane, nella chiacchierata di questo lunedì mattina, è l'avvocato Maurizio Feraudo, consigliere comunale. Intanto grazie, avvocato, per aver accettato il nostro invito, per essere presente nei nostri studi. Grazie a voi per darmi voce e per ospitarmi, per passare un messaggio a tutti i cittadini in questo momento delicato che è quasi la vigilia della campagna elettorale comunale. Allora, partiamo da uno degli ultimissimi temi. Lei, la scorsa settimana, ha firmato un comunicato in cui fondamentalmente contesta la rivendicazione di meriti da parte dell'amministrazione comunale, da parte del sindaco e della sua maggioranza circa l'uscita dal dissesto. Ecco, ci vuole spiegare i termini di questa presa di posizione? Guardi, io ritengo che un buon sindaco non può speculare sulla non conoscenza da parte dei cittadini della norma sottesa al risanamento del bilancio comunale. Cosa voglio dire? Quello che ha fatto l'amministrazione comunale era un percorso obbligato, nel senso che non c'era via d'uscita. Nel momento in cui il dissesto è stato dichiarato al 31-12 del 2016, doveva essere risanato entro i cinque anni, entro il 31-12 del 2021. Questo dice il testo unico, l'articolo 261, il testo unico sugli enti locali. Ed è un percorso obbligato perché se non viene osservata la prescrizione contenuta nel decreto del ministro che approva l'ipotesi di bilancio riequilibrato, le conseguenze sono conseguenze di particolare gravità perché comportano in automatico la trasmissione degli atti alla procura per l'ipotesi di reato. Quindi è un fatto automatico, ma non solo. Al mancato risanamento c'è il piano di rientro stabilito con l'ipotesi di bilancio riequilibrato. Se non viene osservato ci sono anche delle conseguenze in capo agli amministratori che non possono candidarsi più per un determinato periodo di tempo. Questo perché nel momento in cui il ministro approva con decreto l'ipotesi di bilancio formulata dall'amministrazione comunale, pretende che quel percorso venga rispettato nei dettagli. Quindi se questo non avviene, è chiaro che è stato fatto. Ma poi come è stato fatto? Io leggevo che il sindaco e gli amministratori hanno risanato il bilancio. Mi aiuto con un esempio. Ipotizziamo una società che fallisce, perché il dissesto lo possiamo equiparare a un fallimento di una società, riguardo un ente comunale, ma lo equipariamo a una società. Fallisce una società con mille soci. Nel momento in cui viene nominato un amministratore, un curatore, un qualcuno che deve risollevare le sorti di quella società, che fa, chiede ad ognuno dei soci un contributo di mille euro per risanare le casse della società. Quindi con i soldi di ogni socio, ogni socio contribuisce e la società viene risanata. Dico questo perché a risanare le casse comunali non è stato né il sindaco né l'amministrazione comunale, ma è stato anche il sindaco come cittadino e gli amministratori come cittadini, perché tutti i cittadini hanno contribuito a risanare le casse comunali, peraltro versando i tributi al massimo delle tariffe previste. Quindi c'è poco da gioire, c'è poco da gioire perché è da esultare, perché ripeto era un percorso obbligato e l'amministrazione comunale, nel momento in cui questa amministrazione è andata a governare, sapeva che c'era il dissesto in atto, quindi nel momento in cui ha fatto il suo dovere, ritengo che non possiamo che prenderne atto, essere grati perché hanno fatto un'ipotesi di bilancio, ma non più di tanto, questo ritengo io, quindi tutta questa esultanza io non la vedo perché, ripeto, è stato null'altro che un percorso obbligato per evitare le conseguenze di carattere penale. L'ha detto lei in premessa, siamo alla vigilia di una nuova campagna elettorale, siamo alla fine di questa legislatura, è tempo anche di bilanci. Lei a più riprese è stato piuttosto critico nei confronti dell'amministrazione comunale, qual è il suo avviso, la debito maggiore che si può muovere a questa esperienza amministrativa? Guardi, la debito maggiore che io muovo a questa amministrazione è l'aver intaccato in maniera pesante quello che è i diritti dei consigli comunali di opposizione e anche proprio la trasparenza del palazzo municipale verso l'esterno e mi spiego. Questa consigliatura si distingue per avere intanto imbedito ai cittadini di ascoltare i consigli comunali. Una volta c'era la televisione, c'era Radio Cherunzia, piano piano, man mano, non c'è stato più nella televisione, non c'è più Radio Cherunzia, c'è un sistema interno di streaming, ma sappiamo che molti cittadini andare a seguire su internet e stream che i lavori del consiglio comunale hanno portato a quello che io ho sempre denunciato nel consiglio comunale. 17, 18, 15 persone che seguono i lavori del consiglio, mentre prima i lavori del consiglio c'era un'aspettativa, i cittadini aspettavano che Radio Cherunzia trasmettesse il consiglio comunale, in macchine, nei negozi, le casalinghe in gas, tutti quanti ascoltavano i lavori del consiglio e si appassionavano anche a quelli che erano le tematiche comunali. Oggi questa comunicazione è venuta meno. A questo aggiungerei anche avere impedito al consiglio comunale di esercitare il diritto di opposizione. E mi spiego qua, anche qui mi spiego meglio. I consigli comunali, quando prendono la parola, se escono un po' fuori da quello che è il tema dell'ordine del giorno, gli viene spento il microfono, gli viene impedito di parlare. Analogo a cosa, non avviene per i consigli di maggioranza ed è uno degli aspetti importanti, per non parlare poi dello stravolgimento del consiglio comunale. Noi ci troviamo dopo cinque anni di questa pessima esperienza amministrativa con un consiglio comunale completamente stravolto. Ci troviamo con consigliere eletti nella maggioranza che oggi sono nell'opposizione, ci troviamo con candidati sindaci che erano stati eletti in contrapposizione a Pino Capalbo, ma in contrapposizione feroce. Se andate a vedere le dichiarazioni rese da qualche consigliere comunale, candidato sindaco cinque anni fa, vedete con quale feroce veniva attaccato il candidato sindaco Capalbo. Ebbene, senza pudore sono passati dalle banche dell'opposizione ai banche della maggioranza, non solo, in giunta e addirittura oggi fanno i vice sindaci. Quindi questo è quello che probabilmente i cittadini non perdoneranno mai al sindaco Capalbo a questa amministrazione, cioè avere stravolto le regole della legge 81 perché la legge 81 garantiva al sindaco un'ambia maggioranza in continuo comunale. È lo stravolgimento delle regole che secondo me sta alla base di tutto un meccanismo perverso che si è creato all'interno del palazzo municipale. Invece a suo avviso l'opposizione ha sempre fatto il suo dovere in questi cinque anni a qualcosa da riproverarsi come opposizione? No, non l'ha affatto. Bisogna riconoscere che le opposizioni, un po' perché ognuno di noi ha un'attività, ognuno di noi ha, io stesso mi rimprovero e me lo riconosco, che non riesco a partecipare ai lavori delle commissioni perché i lavori delle commissioni coincidono con gli orari di studio per quanto mi riguarda. Però devo anche lamentare che non c'è stata un'azione univoca di tutte le opposizioni. Spesso ognuno è andato per proprio conto, ci sono consiglieri comunali che si sono distanti per aver fatto un'opposizione poi sbagliato, giusto che sia, però hanno rimarcato il loro ruolo all'interno del Consiglio Comunale, altri invece che sono rimasti un po' più defilati. Ma fu probabilmente anche un fatto caratteriale di ognuno di noi. Però ecco, di sicuro, se i gruppi di opposizione, i consiglieri di opposizione, avessero marciato in maniera compatta e avessero tenuto un comportamento che era in linea con quello che era il mandato ricevuto dagli elettori, probabilmente, questa amministrazione non sarebbe arrivata alla sua scadenza naturale. Si ricandiderà? No, io non ho in agenda la mia candidatura, assolutamente. Io ho sempre dato il mio contributo. Se c'è da dare un contributo per cercare di recuperare il tempo perso in questo Paese, anche ad Acre, io penso che bisogna parlare di resilienza, perché il congetto di resilienza non è solo un congetto a livello nazionale, è anche un congetto a livello locale perché bisogna recuperare il tempo perso. Quindi se c'è da dare un contributo a quelli che saranno i candidati sindaci o qualche candidato sindaco, io sicuramente non mi tirerò indietro, farò la mia parte perché ritengo che Acre abbia potenzialità e risorse per aspirare ad un ruolo più importante nel contesto regionale. Di cosa ha bisogno Acre nei prossimi cinque anni? A suo avviso, di che cosa ha bisogno Acre nei prossimi cinque anni? Acre ha bisogno di uscire da queste condizioni di isolamento, ha bisogno di non dipendere più dal politico di turno e il riferimento, guardate, lo faccio in maniera chiara anche alle nostre grandi infrastrutture. Non si parla della Sibarisila, la Sibarisila sono stati buttati 35 milioni di euro, la 6,60 alla Galleria è un'opera che dopo dieci anni, con un ritardo di dieci anni è stata inaugurata e quando parlo di subordinazione di questa amministrazione ai livelli politici di rango superiore, vi faccio l'esempio dell'inaugurazione della Galleria. Voi sapete quando è avvenuta l'inaugurazione? In piena campagna elettorale regionale perché il presidente della provincia Iacucci doveva prendere anche i voti di Acre. Quindi se questa è la logica io penso che chi sarà un domani alla guida di questo paese, di questo comune dovrà iniziare a ragionare con logiche diverse perché Acre ha grosse potenzialità, a cominciare dalle tradizioni culturali, gastronomiche, centro storico, però ecco, devo uscire dall'isolamento, se non esce dall'isolamento non ci sarà nulla da fare e soprattutto ci vuole una mentalità che non guardi al particolare come è avvenuto in questi cinque anni, ma guardi all'interesse generale. Se andate a vedere le delibere che stanno facendo e sono state fatte in questi anni, molte hanno il carattere, la particolarità, cioè perché io l'ho detto, l'ho scritto più volte, questa amministrazione è stata per cinque anni in continua campagna elettorale. Quindi io ritengo che questo territorio, questo comune ha bisogno di un'amministrazione comunale che governa il territorio e metta da parte le campagne elettorali. Lei è tornato in consiglio comunale dopo circa vent'anni più o meno dalla precedente esperienza. Come l'ha trovato il ruolo del consigliere comunale? Com'è diverso rispetto al passato? Guardi, un tempo c'erano i partiti, erano i partiti che avevano un ruolo, in questa consigliatura i partiti non ci sono, non ci sono stati, ci sono soltanto individualismi. Quindi questo lo dico anche perché mi auguro e spero che nella prossima consigliatura i partiti riacquistano una centralità nel dibattito politico locale, perché i partiti poi sono quelli che alimentano il confronto al loro interno e portano idee per contribuire a far uscire anche da questa condizione di isolamento in cui si trova. Quindi questo l'ho rilevato, molto individualismo, molto personalismo, però questo ovviamente anche nell'opposizione, non è solo un fatto della maggioranza. Però ecco, questo è un deficit dovuto al fatto che i partiti hanno obbligato al loro ruolo e bisogna ritornare nei partiti a discutere e a fare programmazione. Bene, noi la ringraziamo per essere stato qui con noi, per aver accettato di chiacchierare in nostra compagnia su quelli che sono i temi del momento a livello politico-amministrativo. Ovviamente se ci sarà l'opportunità saremo ben felici di riaverla in studio. Io vi ringrazio e buon lavoro a tutti quanti. Grazie. Radio AKR. Emozioni infinite. Non correremo più la stessa strada di tramonti puro sangue o impazziti di ruggiata sotto un'alba e sangue non salteremo più tra quelle onde in un valser di delfini lungo orbite profonde. Senza confini non brucieremo più.